Ludovica Francesconi, Giancarlo Commare e il regista Claudio Norza su Spettacolomania, intanto benvenuti. Siamo qui per parlare di Ancora più bello, il secondo film di quella che ormai lo sappiamo è una trilogia, sarà una trilogia. Marta, intanto che bellissime scarpe che hai. Gli opposti si attraggono ma alla fine si lasciano, dice Marta nel film. Marta cambia molto in questo film. Cambiano un po' tutti. Cambiano un po' tutti perché tutti iniziano a diventare adulti. Li abbiamo visti nel primo film ancora adolescenti, quindi che si lasciano tanto sorprendere dalle cose che accadono. Adesso c'è un'evoluzione, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Marta passa dal primo amore a cercare il vero amore e affronta delle sfide anche tanto tosse per lei come una relazione a distanza, tante piccole dinamiche che inevitabilmente la faranno maturare. Quindi è diciamo un processo evolutivo di maturazione che parte sì dal primo film, ma che si sviluppa nel secondo e si concluderà poi nel terzo film, insomma. Diciamo che anche la vita di Marta diventa un po' più reale forse, no? Cioè un po' meno favola, un po' più concreta anche nei riguardi della malattia, delle relazioni. Perché appunto diventando adulta inizia ad affrontare le situazioni reali che le si propongono in maniera molto più diretta. E quindi probabilmente se nel primo film aveva del coraggio nell'affrontare con autoironia tutto ciò che le accadeva, adesso impara ad affrontarle anche in maniera seria, sempre restando positiva, ma con un'ottica completamente diversa. Giancarlo, Gabriele è il nuovo fidanzato, il nuovo amore di Marta. Insomma, sembra facile. Sembra facile, ma non è. Com'è questo Gabriele? Come l'ha facile questa ragazza? Gabriele è un artista, lui piace molto disegnare e piace molto disegnare Marta, perché la spizza sempre prima di conoscerla e la ritrae. Se ne innamora attraverso i suoi disegni inizialmente. Questo è molto simile a Marta, tra l'altro. Sì, sono molto… Poi come dice anche il personaggio di Marta, anche tu ami fare le liste. È un personaggio che in lei trova la sua completezza e quindi penso che anche per questo poi, insomma, lui si innamori di questa persona. Credo che sia più pronto di lei ad affrontare l'amore in una prima parte della loro relazione, che viene, insomma, messa un po' in crisi dal fatto che lui deve lasciare Torino e deve andare a Parigi per affrontare il suo lavoro. E quindi anche lui ha una fase di crescita che noi non vediamo, perché ovviamente è fuori dal contesto Torino, quindi non lo seguiamo in tutto il suo percorso e non lo seguiamo in tutte le sue insicurezze, perché deve confrontarsi con il fantasma di Arturo. Però, senza spoilerare niente, nel momento in cui riusciranno a rincontrarsi dopo aver affrontato le paure in maniera non sana, diciamo così, quando si rincontreranno probabilmente cresceranno. Forse, forse, forse. Poverino, a Parigi lo mandano, capito? No? In the back of the moon, a Parigi. Claudio Norza, allora, una bella responsabilità, diciamo, dirigere questo secondo film che fa un po' da collante tra il primo e il terzo, immagino, no? Assolutamente. Sì, mi sono una grande responsabilità perché... Ci sono anche tanti temi dentro, no? Sì, a parte che diventa un film più corale, intanto, dove prendono spazio anche gli altri, diciamo, tra virgolette, secondari, ma non lo sono, però tutta la famiglia di Jacopo, Federico, anche loro prendono forza durante questo film. Grande responsabilità perché riprende in mano un successo, un film molto bello, è stata una responsabilità ma anche un grande piacere perché lavorare con loro è stato veramente magnifico. Il terzo sarà ancora più bello, anche sempre più bello. Sarà sempre più bello ed sì, sì, per me sì. Prima domanda proprio secchissima, relazioni a distanza, mai provate? Anche lei, eh? Sì, provate, difficili. Funzionano difficili? Sì, difficili per me non ha funzionato, insomma. Anche per me. Io la sto vivendo, vediamo come va. Per il momento, chissà dove lo porterà. Allora, in bocca al lupo, grazie, grazie mille, complimenti. Grazie.